E' stata accolta fra gli applausi il premio Nobel Rita Levi Montalcini che oggi al Teatro Carignano di Torino per l'Alezio Magistralis apre i festeggiamenti organizzati dalla città in occasione del suo centesimo compleanno. 100 anni e 5 mesi, non fa differenza da quando ne avevo 20, dal punto di vista fisico sto bene, che muoio domani non me ne importa niente, il mio messaggio l'ho mandato, ora per ora lo continuerò dopo la morte. E' a Torino per festeggiare il suo centesimo compleanno, ma è lei a regalare un insegnamento alla platea del Teatro Carignano che adorante la ascolta in un tripudio di applausi la ringrazia. Rita Levi Montalcini, la vitalità, la saggezza, la creatività di una mente che ha illuminato il Novecento cambiando completamente la concezione della donna. Non solo moglie e madre, ma studiosa, ricercatrice, attiva nella società e nel lavoro. A cent'anni la vita mi emoziona, è il titolo dell'Alezio Magistralis pronunciata alla platea torinese gremita. Ci sono i rappresentanti delle istituzioni locali, il mondo accademico, gli studenti e le studentesse che a lei si ispirano. A questa piccola grande donna, premio Nobel per la medicina nel 1986, il mondo deve la scoperta del fattore di accrescimento delle cellule nervose. Un passo in avanti decisivo per la conoscenza del cervello e per la cura delle malattie degenerative. Rita Levi Montalcini ripercorre la sua vita, i primi passi, gli impedimenti incontrati da una donna con il grillo dello studio per la testa. Ma è proprio nella testa, nella mentalità, nel modo di intendere l'uomo e la donna che si annida all'ostacolo più insormontabile. Intellettualmente non c'è differenza. La donna è impedita alla nascita, l'uomo è incoraggiata. Non è questione intrinseca, ma estrinseca, non genetica, ma ambientale. E con le esperienze e i successi e i dolori di un secolo di vita, il messaggio della Montalcini guarda al futuro. Non abbiate paura delle vecchiaie. Nelle vecchiaie può essere, come è stato nel mio caso, il periodo più produttivo della vostra vita.